ciao ragazzi bentornati a tutti questa è una nuova serie su minecraft si sopra su minecraft niente prendiamo come vedete ciollo skin da orso perché siamo in una foresta vabbè stiamo in una foresta prendiamo gli albi questa serie uscirà 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 perché non uscirà ma perché uscirà comunque oggi è 9 agosto mi sa vabbè oggi è giovedì e questo video uscirà mercoledì sì vabbè mercoledì uscirà stasera giovedì stasera niente come sempre iscrivetevi al canale e seguitemi su instagram ok quindi ci blocchi iniziamo a farci la crafting table ci lasciamo giusti due per fare la carbonella ok facciamoci ok ci facciamo una spada un'ascia e ci facciamo pure un piccolo è una palla pure ragazzi tanto gli attrezzi per iniziare ok allora faremo così no questo questo così questo così questo così questo da da faccio faccio dovremmo trovare del ciglio però non fanno ok ok ah il sentiero va bene ma che fa su lei ok vieni un po' di pietra per farci gli attrezzi per farci solo il pietra ah direi di farcela qua dentro la casetta per per sto momento dai as aspen 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 scrivetemi qua sotto nei commenti se vorreste prima di vedere di finire a vedere il video proprio adesso se volete che continuo sta serie o se fare un'altra cosa ok va bene questo tutto ok e la sopra dovevo fare una cosa vabbè mettiamo la d'acqua no niente da fare facciamo una fornace facciamo una fornace si ecco qua dove ci mettiamo il legno e questo intanto io setto il punto di generazione devo sentire il punto di generazione però ok ok si andato a posto finalmente dov'è la mia casa dov'è la mia casa dov'è la mia casa ecco qua sotto la mia casetta piccolina che non mi permette che non mi permette problemi ok ok ho messo il punto di generazione ok adesso andiamo direi di spaccare altri alberi ok che vorrei fare una casa ehm cioè sì una casa oppure dell'albero fuori dalle caverne oppure se può un albero non lo so qualcosa è certo sì che si sta facendo no ti puoi prendere il cibo grazie eh pecorella ciao eh ma non ti posso imbezzare tu non dà niente vedete se è finito lo carco o meno se non è troppo buio ok qui devo mettere il cibo intanto intendo, metto le torce faccio giusto una porta basta ok prendono questi e niente va bene niente porta fatta e niente direi che può finire qui un saluto dal mister pivari e da novali kittiveri va bene oh le gambe può finire qua il video ciao 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 ciao